Speri che qualcuno riesca ad andare in cima così si chiude l'era della conquista invernale degli 8000 e dopo? Dopo ci saranno le ripetizioni, perché poi ci sono vie nuove da aprire sugli 8000. Qualcuno che riesca a fare il primo 8000 in stile alpino, ok? E lo stile alpino vuol dire che parti a Campoase e arrivi in cima e la montagna non l'hai mai toccata prima. E nessuno fino ad oggi ha fatto una via in stile alpino su un 8000. Poi ci sono i concatenamenti da fare, quello che l'anno scorso, anzi all'inizio di quest'anno ho provato, che è finito tragicamente perché sono caduto subito in un crepaccio, voleva essere il primo tentativo di concatenamento. Poi ci saranno, viva Dio, anche i 7000 d'inverno. Io non ho fatto mistero che attaccato al Manaslu c'è un pinnacolo di 7992 metri, cioè per 8 metri non è un 8000, che l'ha salito Kukutschka, Heiser, Carsoglio si è fermato al Colle nell'86 e il 7000 più alto della terra non è mai stato salito. Se trovassi le condizioni d'inverno ovviamente, però d'estate una volta solo. Una volta solo. E la dice lunga su quanto c'è da fare sui 7000. Bene, la storia dell'invernale comincerà anche lì, quindi concatenamenti, vie nuove, stile alpino sugli 8000, oppure anche i 7000 e quindi io non ho fatto mistero che al Manaslu se dovessi star bene, esserci le condizioni, mi piacerebbe provare il 7000 più alto della terra d'inverno e ripetere una cosa che un certo Gersi Kukutschka con un certo Arthur Heiser ha fatto e più nessuno ha ripetuto. Sì, sì, una grande impresa sarebbe la seconda volta che la tenti perché anche quando sei andato a Contamara volevi fare questo. Assolutamente, sì, sì. E vedete che non nascondo niente, non sono un tipo che non dice niente e poi se lo fa va bene, se non gli va bene stava zitto. Io accetto, perché la legge dello sport è questa, di provare a dichiarare gli intenti e poi vi ho spiegato la priorità, è il Manaslu, ma se è lungo la discesa sto bene, voglio andare a provare. L'altra volta la grande difficoltà sono state le nevicate. Due anni con due nevicate pazzesche, io ho visto una foto ieri di un elicottero a Samagaon, quindi villaggio sotto Manaslu, con la pilota sdraiata sull'erba che stava facendo colazione e quindi c'è un clima eccezionale. Sono felice da un lato e mi preoccupa perché ho paura che quando arrivo là io, visto che parto il 31 di dicembre, che siano cambiati i giochi e veramente se io volessi fare solo Manaslu punto e basta e adesso fosse arrivato il campo base il primo di dicembre, ci sono 14 giorni di sole e la gente in maglietta giù sotto. Quindi non mi lascio tentare dall'uscire dalle mie regole e vado al 31, ma anche perché dall'1 di gennaio in poi non bisogna più fare la quarantena a Kathmandu per il Covid. Hai accennato al problema dell'inverno. Sì. Quindi tu ribadisci che pensi che l'inverno comincia al 21. Allora, finché non cambiano le regole alpinistiche, poi le regole burocratiche possono cambiare tutti gli anni. Poi se la comunità internazionale di alpinisti decide che le regole cambino, è un vantaggio anche per me. Primo perché io le mie invernali le ho fatte tutte a gennaio e febbraio. E in più di colpo se ne aprono due. Si apre il Broad Peak e si apre il Gashman 1, che sarebbe fortemente irrispettoso per coloro che sono morti di freddo dopo averlo scalato o nel tentativo di scalarlo. Prova provata che non era primavera. Ma se proprio vogliamo essere così cinici, ah io sono contento, io non sono mica un ex. Di colpo mi si aprono altri due 8.000. E anche chi volesse farli non puoi provarli in contemporanea. Se uno va da una parte io andrò dall'altra e così via. Quindi non è che abbia interesse a difendere una posizione indifendibile. Simone Moro tutti a gennaio e febbraio le ha fatte i suoi 8.000. E sono sempre partito dopo il 21. Quindi con qualsiasi calendario nessuno mi tocca le mie. Se se ne aprono altre due. Ma aprire i giochi a partite quasi finite perché manca il K2, forse io sono un illuso, mi sembra irrispettoso verso chi è venuto prima e verso delle regole di un gioco. Le cambi a un minuto alla fine della partita. A me non piace, però se si cambiano io sono pronto. Grazie a tutti.